È saltato per la mancanza di numero legale il Consiglio Comunale di Nuoro, promosso dal gruppo dell'Italia in Comune, che avrebbe dovuto discutere della grave situazione in cui si trova l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Nuoro, da tempo alle prese, con una progressiva riduzione del personale e con carichi di lavoro crescenti. Una situazione a limite del collasso che determina gravi problemi per i cittadini e le aziende. La mancanza di numero legale che ha impedito che si potesse tenere il Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza ha determinato anche un duro scontro tra maggioranza e opposizione che si sono lanciate reciproche accuse su chi dovesse garantire il numero legale per consentire la riunione. Al momento dell'appello effettuato dal Presidente dell'Assemblea Fabrizio Becu non è stato raggiunto il numero legale per due assenze tra le fila della maggioranza. L'opposizione a quel punto ha deciso di non sedersi tra i banchi del Consiglio con la motivazione che aspettasse la maggioranza a garantire il numero legale. La seduta pertanto è stata rinviata e si terrà prossimamente in seconda convocazione. Su quanto accaduto in aula il consigliere comunale di opposizione Paolo Fadda di Uniti per Nuoro ha inviato una breve nota in cui scrive piena e totale solidarietà ai dipendenti della motorizzazione civile di Nuoro che rischia la chiusura ma la maggioranza ha dimostrato ancora una volta di non avere il numero legale per affrontare con la serietà che merita gli argomenti a cuore della città. Su quanto accaduto in aula i gruppi di maggioranza in Consiglio Comunale hanno rilasciato una nota in cui criticano l'atteggiamento dell'opposizione che ha disertato la seduta nonostante alcuni esponenti avessero sottoscritto l'ordine del giorno. L'opposizione, si legge nel documento, ha dimostrato che manca la volontà di affrontare e risolvere i problemi della città. Tentare di mettere in difficoltà l'amministrazione guidata dal sindaco Andrea Suddu sembra essere più importante dell'affrontare e risolvere una situazione drammatica come quella della motorizzazione civile che potrebbe portare non solo all'interruzione di un servizio di basilaria importanza per la comunità ma la chiusura stessa agli uffici con conseguente perita di diversi posti di lavoro.